Che piacere essere qua con questa presentazione, mentre sentivo Andrea, 20 anni che cerco di diffondere la cultura scientifica in questo paese, guardando i risultati, a parte voi e pochi altri, non ho lavorato bene, c'è ancora tanto bisogno di raccontare storie di scienze, di passione, di tecnologia, di innovazione. L'altra cosa che voglio subito dire, ringrazio l'IFREI perché per me è il primo evento a chilometro zero, io ho il laboratorio e l'ufficio all'interno di Talent Garden, quindi oggi non mi sono mosso praticamente da dove vengo tutti i giorni. Quindi grazie a l'IFREI, grazie a Andrea, per me è un piacere non parlare di tecnica, di tecnologia, di innovazione con voi, di digitale, di Indus 4.0, visto che probabilmente ne sapete più di me, ma per voi oggi ho in serbo una bellissima lezione, ho sette bellissime lezioni da un uomo che in realtà arriva da lontanissimo, si chiama Leonardo da Vinci, è morto 500 anni fa, quest'anno in Italia ma nel mondo, soprattutto in Europa, festeggiamo, celebriamo i suoi 500 anni dalla morte, la cosa incredibile è che quest'uomo oggi insegna, secondo me, e vedrete, spero di convincervi anche secondo voi, molto di più di quello che potrebbero insegnarci i personaggi del Novecento. Quindi credo che Leonardo sia uno di noi, io nel libro che ho scritto con Cristina Morozzi, che è una brillante storica del design, abbiamo alla fine scelto di scrivere Leonardo primo designer, ma il titolo originale che avevo immaginato molto più pop e forse meno di successo era proprio Leonardo uno di noi. Io sento che Leonardo se vivesse oggi qua sarebbe uno di noi, tecnici, che io poi cercherò anche di definire in altro modo, non siamo soltanto tecnici. Quindi Leonardo aprirebbe la strada a centinaia di lezioni, ne ho scelte sette per voi, per noi, uomini del XXI secolo, uomini e donne del XXI secolo, professionisti che lavoriamo nel mondo della tecnologia, partiamo a vedere la prima. Allora, la prima lezione è usare bene il telecomando, che non è banale. La prima lezione riguarda la crisi. E' un po' in ritardo, torno indietro. Dove devo puntare l'onda elettromagnetica? Eccolo qua, vediamo se non si muove. Perché la crisi è la prima lezione? Perché, soprattutto in Italia, non sono nel resto dell'Europa, non sono negli Stati Uniti, noi siamo ancora tannagliati e viviamo in quella che chiamiamo crisi. Allora, la frase che è qua, poi la farò dire a un altro meglio di me. Ma Leonardo da Vinci è il frutto, è l'effetto di una crisi. E tutto il rinascimento italiano l'è stato. Quindi, io, la prima lezione che sicuramente ci direbbe Leonardo, se venisse qua, ragazzi, godetevi questa crisi. E perché? Perché Leonardo da Vinci, come sapete, esce, insieme al rinascimento, da un periodo che gli storici meno avveduti chiamerebbero periodo buio. In realtà il Medioevo fu tutt'altro che buio. Ma sicuramente il 300, il 1300, cioè quel secolo che va dal 1299 al 1399, fu devastante. Se non fu buio, fu molto peggio che buio. Fu qualcosa di oscuro, vicino alla morte. Perché? Do quattro cause di questa definizione. La prima, una pestilenza, la peste che ha devastato tutta l'Europa. Migliaia di morti, milioni di morti in quegli anni. La seconda, una carestia che è stata dovuta al fatto che noi estensivamente abbiamo coltivato i terreni in tutta Europa, ma la popolazione è cresciuta più della capacità produttiva. Non abbiamo innovato, abbiamo solo occupato più spazio per l'agricoltura. E a un certo punto lo spazio finisce. Soprattutto in Europa. Questa cosa ha fatto sì che la popolazione crescesse e non ci fosse abbastanza cibo per tutti. Seconda causa. Terza causa, una piccola aggraciazione. Ci vogliamo far mancare anche un po' di freddo? Piccola aggraciazione. Quarta causa, la guerra più lunga di tutti i tempi. Cento anni di guerra tra francesi e inglesi nel 1300. Quindi capite che quando parliamo di crisi oggi, a Leonardo da Vinci se venisse qua e diceva che abbiamo avuto una leggera flessione, o anche una devastante flessione, del fatturato delle aziende, non è una crisi rispetto a quello che ha vissuto quest'uomo. E ha vissuto quest'uomo che ha vissuto l'epoca precedente a quest'uomo. Però detto ciò, tanto più profonda una crisi, tanto più l'uomo reagisce e gestisce questa crisi producendo novità. La novità, questa è la rappresentazione del Medioevo, la novità è il rinascimento italiano. Cioè proprio nel cuore dell'Europa dove è avvenuta questa crisi, nel 300, nasce la risposta a questo gigantesco cambiamento, a questa gigantesca difficoltà che è il rinascimento. E naturalmente Leonardo da Vinci si inserisce all'interno di questa trasformazione, all'interno di questa risposta alla crisi. Come vedete nelle due immagini si capisce come cambia la prospettiva, il mondo resta sempre quello. I rinoceronti guardano il mondo, tranne quando per caso entrano in contatto con l'uomo, ma il mondo per gli altri animali resta sempre quello. Se noi facessimo un film di rinoceronti, nella storia, non ci renderemmo conto del passaggio del tempo. Perché è l'uomo che modifica il tempo. Perché noi percepiamo il mondo in funzione degli strumenti che utilizziamo per percepirlo e delle strutture che costruiamo sopra il mondo stesso. La natura è immutabile o cambia lentissimamente. Mentre in praticamente 25 anni, dal 1300 al 1400, dal fine del 1400 al 500, la percezione del mondo passa da questa roba qua, schiacciata, senza prospettive, anche senza prospettiva ma anche senza prospettive, contorta, chiusa su se stessa, anche verticale e profonda ma implosa su se stessa, a questa roba qua. Cioè i contemporanei di Leonardo, uscendo da quella crisi, propongono un mondo così. E quello che mi auguro e quello che Leonardo ci dice dovremmo fare oggi noi, uomini del XXI secolo, che usciamo da una crisi sacrosanta, benedetta, che il XX secolo ci ha proposto. Non posso dirvi che cos'è una crisi, non abbiamo il tempo, ma la crisi è soltanto un radicale cambiamento dello status quo. Quindi, visto che voi tutti vi ritenete innovatori come me, è manna per noi, no? Bene, imbocchiamoci le maniche e cominciamo a lavorare sulle cose nuove. Non funzionano più quelle vecchie. Ma che figata! Cominciamo a lavorare sulle cose nuove. Non, oddio, com'era bello quando fatturavamo vendendo videocassette o pellicole. Non funziona più, ma non perché siamo cattivi. L'umano, quella roba lì, non la vuole più. Quindi la cosa bella per chi ha voglia di innovare è disegnare un nuovo mondo. Ho la percezione che gli umani devono avere del nuovo mondo. Fare design, fondamentalmente, progettare. Mi dispiace dover chiamare un altro intellettuale amore della mia vita del Novecento e non poter prendere una parola così chiara di Leonardo da Vinci, ma fate finta che l'abbia detto Leonardo da Vinci, sono convinto che sottoscriverebbe questa frase. Questa è di Albert Einstein, che credo sia ancora il mio preferito, perché è intellettuale, uomo di azione, fantasia, creatività, di tutto. Albert Einstein diceva nei suoi scritti, nel mondo secondo me, in un libro del 1931, la crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Questa frase qua è più bella di quella che ha detto prima Andrea, di Alan Kay, di chi lo inventa, è bellissima, è proprio umana, è umanità questa, e lo facciamo questa cosa attraverso la tecnologia e la cultura. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. Ci mettete tre giorni a digerirla, ma quando l'avrete digerita sarete sazi di verità. Gli umani superano se stessi senza essere superati. Gli uomo sapiens, gli scimpanzee, i rinoceronti, non lo sanno fare. Noi, grazie all'invenzione della plastica, dei palcoscenici, degli altoparlanti, delle luci, della moquette, degli smartphone, degli software, dell'intelligenza artificiale, superiamo noi stessi ogni giorno, non ogni 25 anni quando generiamo un nuovo essere umano, con la procreazione. Noi continuiamo a immaginare noi stessi superando i nostri paradigmi. E l'umanità giace in questa prassi continuativa e fondante dell'umanità. Non so se vi ho convinto sulla crisi, so che comunque è difficile vivere una crisi, soprattutto sulla crisi economica, ma ripeto, usiamolo come trampolino per guardare al futuro, non scappandoci da questa crisi, ma restandoci dentro, vivendocela, e cercando di trarre anche il dolore e quella oscurità di cui parlava Einstein, per generare nuove idee. Seconda lezione del grande Leonardo da Vinci, il contesto. Anche questo è un tema in Italia spesso poco compreso, perché in Italia abbiamo la sensazione che ci debba essere sempre qualcuno che risolva i problemi dall'alto, l'uomo solo al comando. In realtà non esiste, non è mai esistito, non mai esisterà, neanche Albert Einstein, neanche Leonardo da Vinci potrebbero essere quello che sono senza il contesto in cui hanno vissuto. Non è un caso che Steve Jobs sia nato in Silicon Valley, che Leonardo da Vinci sia nato nel rinascimento italiano, che Einstein sia nato nella crisi europea della fisica dell'inizio del Novecento, che Edison sia nato all'Iscost, non esiste il genio che... Uh, guarda, è nato un grandissimo genio da solo in un posto in Australia. Le rivoluzioni industriali, le rivoluzioni scientifiche, le rivoluzioni culturali nascono e alimentano gli individui che vivono in quella zona dove le discussioni sono più vivaci. E Leonardo da Vinci lo dice prepotentemente. Perché? Perché la sua biografia, per chi l'ha letta magari proprio in quest'anno delle celebrazioni, parte dopo un periodo in campagna con i genitori, che in realtà non l'hanno riconosciuto più col padre che con la madre, e col nonno soprattutto, poi va dove sa che può esprimere il suo talento. Leonardo da subito dimostra di essere molto bravo a osservare la natura e trasformare questa natura in qualcosa che è diversa dalla natura, cioè arte, e il padre, che non poteva avviare la vita da notaio quale lui era, perché non era un figlio lecito, lo porta nella bottega di Andrea del Verrocchio. E Leonardo diventa quello che è, non perché è un genio, ma perché vive tra altre persone che non sono nemmeno loro geni, ma che si passano contenuti dialogando, lavorando insieme, giornalmente. Quindi se mai nella vostra testa ci va mai valenata l'idea che da soli voi potete fare qualcosa, dimenticatevelo. Chiaro che c'è un momento in cui Leonardo da Vinci e i grandi innovatori hanno la capacità di sintetizzare un'idea del contesto e portarla più in alto degli altri. Ma senza raccogliere, lo dice Leonardo nella sua biografia, senza raccogliere informazioni da un contesto, gli umani tipicamente da soli non combinano niente. Quello è Andrea del Verrocchio, questa è la sua bottega. Se scendete nel mio laboratorio dopo, quando avete voglia, io sono fondatore e presidente di The Fab Lab, come è già stato detto, la sede è qua, io vedo molto rinascimento all'interno del nostro laboratorio. Cioè, queste botteghe tecnologiche, alla fine erano queste. All'epoca usare lo scalpello, progettare, dopo lo vedremo, un agliante per volare o un elicottero, questo era un Fab Lab. Non è un caso che in Italia abbiano così successo i laboratori di fabbricazione digitali, perché siamo, è l'artigianato tecnologico, o l'artigianato digitale, che non è la grande industria, non siamo, non credo saremo mai scalabili noi, ma l'idea di fare una boutique dove le tecnologie sono protagoniste, ma per l'uomo, al centro della città, una città che dialoga con noi, è fondamentale. Vedo molto Fab Lab all'interno delle botteghe nascimentali e viceversa. Quindi, prima cosa, la crisi è benedetta, seconda cosa, andate dove il contesto è ricco, non scappate e isolatevi perché le idee nascono in mezzo agli altri. Terza lezione, intelligenza sociale. Anche qua ci sarebbe da parlare per delle ore, che cos'è l'intelligenza? Un casino, soprattutto oggi che stiamo capendo che potrebbero arrivare delle intelligenze non naturali ma artificiali a fare delle cose, capire cos'è l'intelligenza è sempre più complesso, no? Proprio perché l'intelligenza è un processo complesso, emerge da una moltitudine di connessioni chiamate sinapsi che ancora non siamo riusciti a mappare, credo non lo faremo per un po'. Ma sicuramente quello che si è capito negli ultimi anni, che i neuroscienziati, gli psicologi e anche gli antropologi hanno capito che l'intelligenza non riguarda solo la logica matematica, non è solo una questione algoritmica. Ci sono tante intelligenze, un'intelligenza fondamentale, ce ne sono nove, dieci, dodici, ogni giorno ne nasce una, spaziale, musicale, sociale, emotiva, logico-matematica, una sicuramente che Leonardo ha messo in campo e che mi piace presentarvi e che ci serve soprattutto in questo periodo per capire come vivere meglio, è quella che viene chiamata intelligenza sociale, aperta tonda, empatia. Ora, che cos'è l'intelligenza sociale? Perché Leonardo ce l'aveva? Perché dico che Leonardo aveva questa grande intelligenza sociale? Perché quando Leonardo da Vinci arriva a Milano, lui arriva a Milano nel 1482, lui nel 52 arriva a 30 anni, tipico percorso di un italiano che a un certo punto, molti di voi probabilmente lavorano a Milano, per motivi di lavoro, perché qua c'è sempre stato il Danè, la grana, e lui dice, cavolo, voglio fare arte, voglio esprimere me stesso, dove vado? A Milano. Aveva 30 anni, non era laureato, non esisteva nell'università all'epoca, non esisteva una professione che definisse Leonardo, era un artista, poi vediamo cosa significa artista per Leonardo, aveva lavorato, ve lo ricordate, per l'Andrea del Verrocchio, fondamentalmente aveva fatto pale di altare, aveva dipinto e fatto qualche scultura, quando presenta il suo curriculum a Lodovico il Moro, figlio di Francesco Sforza, guardate cosa fa, guardate l'intelligenza raffinata, sociale, di Leonardo da Vinci, solo per chi non lo sapesse, Lodovico il Moro era figlio di Francesco Sforza, che a sua volta aveva sposato Beatrice, che era figlia di, prima il padre era un condottiero, Francesco, ma sposando Beatrice è diventato il duca di Milano, ma la sua tradizione era una tradizione di guerra, era un condottiero di guerra, dei visconti, quindi Leonardo dice attenzione, non ha detto io sono Leonardo da Vinci, come faremmo noi presuntuosi del ventunesimo secolo, io mando il curriculum e dico chi sono io, scrive il curriculum personalizzato in funzione di chi l'avrebbe letto, chi di voi lo fa? Quasi tutti, perché siamo dei paraculi, ma l'abbiamo imparato da lui, però la cosa bella è che lo fa Leonardo da Vinci, che comunque aveva già dipinto delle cose importanti, l'annunciazione, però lui si piega le esigenze, ce lo fa Leonardo da Vinci, si piega le esigenze dell'ascoltatore, e scrive Leonardo aprendo la lettera, non aveva mai costruito un'arma, non aveva mai progettato, guarda cosa scrive, avendo constatato che tutti quelli che affermano di essere inventori di strumenti bellici innovativi, in realtà non hanno creato niente di nuovo, invece tu Leonardo, rivelerò a vostra eccellenza i miei segreti in questo campo, e li metterò in pratica quando sarà necessario, speriamo più tardi che si possa. Le cose che sono in grado di fare sono elencate, anche se brevemente, qui di seguito, ma sono capaci di fare molto di più, a seconda delle esigenze, non sapeva fare niente di quello che dici di saper fare, non vi riporto la lettera originale sotto, ma dice, so costruire bombarde, catapulte, carri falcianti, di tutto, sono dieci punti dove descrive delle armi terribili, che in realtà non aveva mai visto e non sapeva neanche costruire, forse, dicono gli storici, aveva comprato proprio venendo a Milano un libro, non mi ricordo più di chi, di un latino, dove c'erano tutte le armi, ma è come se io adesso apressi un manuale di intelligenza artificiale e vi dicesse che so fare intelligenza artificiale, ne so qualcosa, ma non so programmarla, non so, fatto sta che finita la lettera, ancora più intelligentemente, socialmente, scrive, me lo immagino Leonardo, a Firenze che sta per scrivere la lettera, dice, aspetta, però se questo poi fosse invece più avveduto del padre, non si vuole mettere in guerra con tutti i ducati confinanti, e aggiunge una postilla, nel caso tu volessi, io so anche dipingere e scolpire, Leonardo, e se però costruire il cavallo, che tanto vuoi costruire per tuo padre, che è quello che adesso è all'ipodromo, che è stato ricostruito nel Novecento, quindi, al di là della lettera, che è una butade, Leonardo, che spesso noi pensiamo essere un genio, presuntuoso, che ce lo immaginiamo, in realtà era un uomo che ha fatto quello che ha fatto, perché sapeva interpretare il contesto in cui viveva, Lodovico voleva quello, in realtà poi sapete cosa ha fatto Leonardo a Milano? Organizzava eventi, cioè poi Lodovico, che sicuramente ha fatto qualche guerra, ma non era come il padre, e non era interessato, forse perché il rinascimento era un'altra cosa, rispetto all'epoca precedente, organizzava feste, Leonardo fondamentalmente per Lodovico ha organizzato feste, non feste con l'aperitivo, c'era anche quello probabilmente, e lo spritzio non so se fosse già stato inventato, ma faceva volare cavalli, leoni che si muovevano, automi, quindi usava la tecnologia per stupire, anche i grandi personaggi dell'epoca, però appunto, quello che mi interessa, estrarre come lezione, è giusto avere una propria autodeterminazione, dire chi si è, ma entrare in relazione con gli altri, significa portare valore a quella persona, ai nostri clienti, ai nostri colleghi, ai nostri partner, anche a volte ai nostri competitor, quindi capire com'è il mercato, e dare agli altri, quello che si aspettano, naturalmente non tradendo le nostre stesse aspettative. Quarta lezione, interdisciplinarietà, è una parola che io usavo tantissimo alle medie, almeno lo usavano i professori con me, ma poi io, almeno poi l'ho fatta, ma non perché me l'hanno insegnato, cioè l'interdisciplinarietà alle medie era, dai fai una ricerca dove c'è, una cartina di geografia, dai lo metti l'Umbria, poi fai un po' di matematica e storia, dai butta dentro in un A4, in un foglio protocollo, ve li ricordate questi esperimenti che facevo? Ma nel lavoro poi, soprattutto nel Novecento, non è che si parlasse molto, almeno io non me lo ricordo, qualcuno diceva, ma non veniva neanche a me, la capacità di collegare temi lontani, tipo la fisica e la filosofia, l'arte e la tecnologia, era una cosa che facevano pochi, gli artisti, i visual designer, che ne so, ma nel lavoro non è che era richiesto, io credo che invece nel XXI secolo, l'interdisciplinarietà conti tantissimo, e Leonardo perché era interdisciplinare? Ce lo dice, l'unica cosa che ha fatto nella sua vita, che ci ha lasciato, oltre a qualche scritto, la sua opera su taccuini, che si chiamano codici, i codici di Leonardo, non so chi di voi li abbia mai visti dal vivo, i codici di Leonardo erano poco più, non ho un fogliettino, sì, poco più di questa cosa qua, come dimensioni, cioè noi abbiamo in mente l'Atlantico, che in realtà è un patchwork, fatto da Pompeo Leoni, più tardi, cioè lui ha preso i fogli di Leonardo, e li ha messi in un Atlante, che ti dà l'idea del librone, e quindi l'idea sbagliata che può avere un umano vedendo questa roba, è che Leonardo avesse a casa questo librone, che la sera andasse lì, e dice, ma scrivo una roba, Leonardo invece girava, adesso non ho una tunica, con la gonnellina corta, perché era bello, gli piacevano le sue gambe, aveva i capelli lunghi, sapete che era omosessuale, ci teneva molto al suo look, era molto attento, era anche molto consapevole della sua bellezza, e girava con la tunica, con degli appunti, come faremmo noi oggi con la moleschina, o con un foglio, e tutte le volte che trovava qualcosa di interessante nella sua testa o nel mondo, tirava fuori il carboncino, e scriveva qualcosa, quindi quello che noi vediamo di Leonardo, sono appunti, quindi sono di getto, e quello che trovate, adesso in queste pagine non si capisce, ma provate a scorrere, è che nella stessa pagina, cioè una pagina grossa così, si arriva a comprendere fino a nove discipline, cioè una pagina così, io a malapena riesco a fare, un po' di matematica, e magari scrivere, cioè botanica in alto a destra, poi un profilo di un uomo, poi uno studio di ingegneria, un discorso filosofico, una formula matematica, un po' di ottica geometrica, ma in una pagina così, cioè lui passava tra i saperi, con una velocità, che io nel libro che ho scritto con Cristina, ho paragonato, e se volete fate un esperimento, alla nostra navigazione internet, se voi guardate la cronologia di ieri, del vostro browser, quello in chiaro, guardate cosa avete fatto, avete fatto il Leonardo da Vinci, magari siete partiti da, vediamo cosa fanno a Life Rave Symposium, poi vedete Massimo Temporelli, non l'avete fatto, ma cosa fa? Si occupa di Fabla, che interessante sta roba dell'unione della tecnologia con il design, ma il design che cos'è? Il design alla fine è forma materiale, materiali, adesso non è la vostra vita per fortuna, però quanti link, connessioni tra mondi e siti facciamo ogni giorno? E Leonardo è, per questo dico che ci insegna anche dal punto di vista, come si può dire, dell'accesso alla conoscenza, come dovremmo comportarci, e io credo che non sia sbagliato, essere un po' schizofrenici, cioè avere delle basi profonde, lo dico soprattutto per i millennial, studiare, laurearsi, o comunque studiare un argomento approfonditamente per un po' di tempo, ma poi salire in superficie e muoversi velocemente tra i saperi, perché è da lì che oggi si estrae valore, non nello scendere in verticale su un sapere solo, poi c'è qualcuno che per fortuna lo fa, altrimenti saremmo tutti come me, che chiacchierano di mille cose e non fanno nulla, ma è fondamentale che ci sia qualcuno che connetta i saperi, oggi, soprattutto oggi nel ventunesimo secolo, perché bisogna riprogettare il mondo e per riprogettare il mondo bisogna includere tutti i saperi, non dire facciamo una roba di ingegneria, facciamo una roba di ingegneria con l'etica, con l'informatica, con la psicologia, con l'arte e via dicendo. Questo lo conoscete? Non sono solo io a dirlo, che vi stia simpatico o meno, che lo crediate folle o no, ma questo è il nuovo paradigma, secondo me, non solo secondo me, o meglio, questo è l'uomo attualmente vivente che assomiglia di più a Leonardo da Vinci. Purtroppo non è italiano, mannaggia, potremmo anche cercarcelo in Italia, difficilmente lo troveremmo, ma solo per farvi capire, perché secondo me, vi ricordate, botanica, ingegneria, macchine da guerra, arte, ottica geometrica, a livelli altissimi, anatomia, ma che stiamo dicendo, aveva fatto degli studietti da appassionato, da hobbista, e la stessa cosa potremmo dire di lui, non è che stiamo dicendo che un uomo, sì, ma dai, c'è uno che nel garage si costruisce macchine elettriche, poi prova a volare, poi, no, no, questo insegna la NASA a far volare i razzi, sta cambiando il mercato dell'automotive, probabilmente cambierà il mondo dei treni, sta cambiando il mondo dell'accesso all'informazione attraverso il cervello e le macchine, ha cambiato l'economia e la finanza su internet grazie a Paypal, stiamo parlando di un uomo interdisciplinare inside, basato sull'interdisciplinarità, è un fisico di formazione che nasce in Sudafrica, si sposta in Canada nei primi anni 2000 e poi fa tutto quello che sapete, tanto lo conoscete meglio di me, ma quello che mi interessa al di là dei singoli successi è vedere la totale incongruenza, l'intollerabilità ai nostri occhi dei vari argomenti trattati. Nessuno di noi darebbe credito a priori, a posteriori sì, a un uomo che gli dice farò una start-up sul finance, farò una start-up sui voli spaziali, farò una start-up sull'automotive, farò una start-up sul treni, farò una start-up sulla connessione uomo-macchina attraverso il cervello. E chi cazzo sei? Superman? Con un approccio interdisciplinare che migra competenze da un business ad un altro, questo uomo l'ha fatto. Quindi se non avesse la prova provata che c'è chi lo sa fare, sarei in difficoltà anch'io a dirvi che si può fare. Non dobbiamo diventare tutti Elon Musk, sennò il mondo va a rotoli dopo domani, ci vuole anche chi con i piedi per terra faccia veramente il day by day, altrimenti... Però è sicuramente un esempio, come lo è Leonardo da Vinci, si può fare interdisciplinarità nel business e chi la fa guadagna leggermente di più in valore per gli umani rispetto agli altri. Questo, ripeto, non significa che se c'è qualcuno qua che conosce il dialetto di un linguaggio informatico è spacciato, serviranno sempre, ma ogni tanto alzare la testa e guardare cosa succede sopra di noi, vedere che c'è gente che connette altri e imparare il dialetto degli altri è fondamentale, lo dice Leonardo da Vinci e un po' anche Elon Musk. Quinta lezione, sto andando verso la conclusione, STEM o STEAM, dipende come lo volete dire, con la o senza la, cosa sono, lo sapete meglio di me, ma lo ripeto, Science, Technology, Engineering, Art e Mathematics. Cioè sono le quattro discipline che secondo i nuovi modelli di apprendimento e formazione saranno fondamentali nei prossimi anni. Questo non significa che dobbiamo diventare tutti scienziati o technology o ingegneri o matematici o artisti. Vuol dire che per una dieta equilibrata del sapere dobbiamo integrare qualunque altro lavoro faremo, business, economia, finanza, con queste quattro discipline. Chi meglio di Leonardo può rappresentare questo mondo? Che era scientifico, cioè era un artista ma che usava la scienza per osservare il mondo, dopo vediamo cosa significa usare la scienza, e che diceva nei suoi appunti spesso sono discepoli dell'esperienza. Quanti di noi usano i dati, alla fine dell'esperienza vuol dire dati, faccio un esempio, dico che questo telecomando cade verso il basso, me lo dice Aristotele, io lo voglio provare, voglio provare scientificamente e vederlo con i miei occhi che funziona, prendere appunti, segnarmi dei dati, non solo, Leonardo si avvicina al metodo scientifico, sapete che Leonardo nasce nel 1452, quindi circa cento anni prima di Galileo, che è il fondatore del metodo scientifico, ma Leonardo arriva a dire più volte nei suoi appunti, prima di farne in questo caso regola generale, provalo due o tre volte, che non è ancora Galileo, Galileo dice non solo tu devi provarlo infinite volte, ma chiunque nel mondo deve provarlo e dire che quella sedia è bianca e di plastica e di forma, ma se un altro lo vede in un altro modo non possiamo farne regola generale. La cosa bella che secondo me deve succedere nei prossimi anni è che questa roba qua che ha inventato Leonardo da Vinci, che ha sottoscritto Galileo e potenziato Galileo deve diventare la regola del business, della politica, della finanza, di chiunque. oggi quello che vedo io è che i manager, soprattutto i politici, in generale il mondo va con quello che chiama sesto senso. Ma secondo me è così, cosa ne sai? Oggi devi raccogliere dati prima di dire ok, si va di là, ok, e la risposta giusta è questa, devi avere le prove, devi raccogliere dati, si dice data driven, alla fine è questa roba qua. E soprattutto avere l'umiltà e credo che oggi sia fondamentale di dire secondo me stiamo andando di là, questi sono i dati che ho in mano, se sono un manager lo devo dire al mio team voglio andare di là, se non arrivo là devi avere l'umiltà di dire ho sbagliato qualcosa o nel prevedere o nella lettura dei dati, ma perché se no in un mondo che sta cambiando tutti commetteremo degli errori, ma se non li dichiariamo e non impariamo dai nostri errori, dal metodo scientifico, non ci faremo sempre dei modelli sempre più sofisticati e più giusti per interpretare cosa fanno le nostre aziende, dove va il mercato o cosa dobbiamo fare noi della nostra vita. Quindi questa è la regola di un'umiltà, cosa bella che ha della scienza di cui mi sono innamorato quasi subito, che non è scritta nella pietra, Galileo ha sbugiardato Tolomeo, Einstein ha sbugiardato Galileo, arriverà qualcuno che sbugiarderà Einstein, cioè non c'è una verità fissa, immutabile, certa, c'è la realtà che va interpretata, che va sperimentata e poi si vanno a costruire dei modelli che funzionano meglio di quelli precedenti e alla fine il business sia quella roba lì, credo, o il nostro lavoro. Non esiste, questo è il miglior sistema operativo del mondo. Adesso, in questo momento, per questa situazione va bene, ma magari dopo c'è un altro nuovo. Se tu ti chiudi gli occhi e fai così, poi ti trovi in una situazione di crisi che non sai risolvere perché non sei abbastanza flessibile per poterlo risolvere. Questo è il grande Galileo Galilei che dobbiamo comunque celebrare essendo italiani. Un altro esempio, non ho tempo di parlarne, ma appunto, guarda caso, nasce nello stesso territorio dove è nato Leonardo, l'importanza del contesto. E la penultima lezione è la centralità dell'uomo, che credo voi abbiate ben presente perché oggi ne parlano più gli americani che non gli italiani, infatti l'ho scritto in inglese, Human Central Design, che significa tenere l'uomo al centro chi prima di altri e con più forza l'ha detto se non Leonardo da Vinci con l'uomo vitruviano. L'uomo vitruviano è l'esempio di come fate quello che volete, usate la geometria, l'arte, la tecnologia, ma guarda caso, l'uomo è perfettamente inscrivibile all'interno del quadrato e del cerchio che sono le figure che all'epoca venivano ritenute sia naturali che artificiali perché alla fine le ha scoperte l'uomo, la quadratura del cerchio le ha scoperte l'uomo con la sua cultura, con la sua curiosità, ma fondamentalmente l'uomo è inscrivibile e la donna sono inscrivibili perfettamente all'interno di queste due figure, quindi è l'uomo il centro di tutte le nostre azioni. Mi piace citare un altro grande pittore, artista, Pablo Picasso, anche in onore di Andrea che vive in Spagna, e Pablo Picasso diceva a quattro anni dipingevo come Raffaello poi ho impiegato tutta la vita per imparare a dipingere come un bambino. Io credo che noi siamo nella stessa situazione, noi umani del XXI secolo, questa è mia, riparafrasato Picasso e dico ci abbiamo messo tre rivoluzioni industriali, quasi 300 anni, per imparare a tornare o sperare di imparare a tornare a lavorare come nel rinascimento. Cioè, non abbiamo fatto qualcosa di schifoso nei 300 anni passati, abbiamo fatto delle cose utili per il business, per la nostra capacità di espandere le nostre capacità, i nostri valori, ma adesso io non auguro a nessuno di vivere come si viveva all'inizio del Novecento, di lavorare come si lavorava nel Novecento, io il modello che sposo è un modello rinascimentale in cui gli uomini portano valore, sentono di portare valore all'interno delle loro aziende e non degli ingranaggi, della catena di montaggio di Ford e di Taylor che ripeto, non li voglio giudicare, erano figli del loro tempo, il tempo di oggi è diverso e noi dobbiamo tornare a ragionare come Leonardo ragionava in cui i saperi sono tutt'uno, in cui il lavoro crea valore per l'uomo, dove i prodotti e i servizi che produciamo come lavoratori hanno valore per qualcuno e non sono quei qualcuno dei clienti a cui vendere quel prodotto, ma degli umani a cui donare valore, vendere valore se volete, è sempre business, ma il valore è centrale. L'ultima e poi il touch per sempre, design thinking, anche questa è una parola inglese che mi fa arrabbiare fondamentalmente l'abbiamo inventato noi il progetto e Leonardo da Vinci nel disegnare questo l'abbiamo reinterpretato a noi con le nostre stampanti le nostre laser cutter o macchine digitali le abbiamo riprodotte ma fondamentalmente Leonardo era un progettista e per questo ho scelto di scrivere questo libro su Leonardo progettista non era uno scienziato non era un artista era un uomo che in tutti questi saperi usava il disegno il progetto come driver che è quello che dovremmo fare noi oggi osservava da scienziato la natura costruiva macchine ingegneristiche per produrre dati per capire come costruire i suoi prodotti ma non solo diventava beta tester oggi diremmo in America cioè lui in fondo a questo appunto dove disegna la posizione dell'uomo all'interno della sua macchina scrive questo strumento sperimenterai sopra un lago e porterai cinto un otro lungo l'altro lungo è all'interiore della bestia dell'animale che era l'unica cosa che all'epoca si poteva gonfiare come un salvagente quindi Leonardo a se stesso dice designer progettista ingegnere artista e beta tester caro vai a Como su Brunate buttati giù non buttarti nel prato della montagnetta di Milano che all'epoca non c'era che è fatta di detriti ma non buttarti dove non c'è l'acqua perché se cadessi almeno non ti spacchi le gambe ma non solo siccome non sai nuotare probabilmente non è che andava in piscina alla Cozzi o non c'erano le piscine all'epoca non è un uomo di mare portati anche un salvagente quindi lo vedete che è proprio c'è tutto dall'osservazione della natura fino alla prova del suo strumento per fortuna non l'ha mai fatto perché lo strumento non avrebbe mai involato non aveva la portanza e chiude ciò che nel cadere non annegasse un genio un genio ma perché ripeto non perché qualcuno gliel'ha regalato perché se l'è costruita questa genialità che è quello che dovremmo fare noi oggi chiudo con una sintesi che dovremmo stamparci con caratteri tribali qua come si fa oggi primo la crisi e la benedizione secondo il contesto è fondamentale terzo l'intelligenza sociale oggi nell'epoca in cui le macchine faranno tanto del nostro lavoro c'è entrare in empatia con gli altri è fondamentale l'interdisciplinarietà è un'arma devastante se la sappiamo usare partire dalle nostre competenze ma allargare i nostri saperi STEAM Science, Technology, Engineering Art e Mathematics sono al centro di qualunque professione del futuro Human Center and Design teniamo l'uomo al centro Design Thinking progettiamo non caschiamo dentro le trame affascinanti delle tecnologie fine se stesse le tecnologie come tutte le discipline sono strumenti per progettare meglio qualcosa che ha valore per l'uomo le ultime due ma non ho tempo di farle ma teniamole lì perché sono importanti soprattutto con l'arrivo dell'intelligenza artificiale potenziamo la nostra immaginazione di cui Leonardo era padrone e grande maestro la curiosità e l'immaginazione e la capacità di risolvere problemi complessi che le macchine ancora non sapranno mettere in campo ringraziandovi vi dico io di queste cose parlo tutti i giorni sui social a volte annoio i miei amici i più fedeli me lo dicono però non posso farne a meno quindi se volete continuare a dialogare di questi affascinanti temi ci vediamo sui social e vi ringrazio viva Leonardo grazie